Nessuna operazione di smantellamento, nessun accorpamento definitivo o sospensione del servizio, nessuna migrazione della pediatria di Fano verso Pesaro. Dopo la ridda di affermazioni, allarmi e polemiche dei giorni scorsi, Marche Nord fa chiarezza per spazzare via qualsiasi interpretazione erronea a riguardo della momentanea collocazione del servizio di pediatria nel reparto di ostetricia e ginecologia durante il fine settimana e per rassicurare cittadini e pazienti sull'efficienza del servizio al netto di ogni allarmismo ingiustificato. È una normale operazione, ci dicono dirigenti e primari, di razionalizzazione delle risorse a disposizione. Pediatria di Fano è regolarmente funzionante, aperta regolarmente H24 e assicuriamo tutti i servizi dal pronto soccorso pediatrico, assistenza in sala parto e degenze. Quindi non c'è nulla di nuovo, tutto procede come previsto. Quest'anno assisterà la chiusura estiva perché sarà regolarmente aperto e quindi tutto rientra nella normalità. Penso che debbano credere in un dipartimento materno infantile che è cresciuto, che cresce e che secondo me ragiona sempre di più in termini di dipartimento e che quindi non manda via nessuno ma dà possibilità diverse a seconda dei periodi, a seconda delle esigenze dei piccoli e del personale proprio di ricoverare in spazi eventualmente anche differenti ma che riguardano il dipartimento e quindi che riguardano la pediatria, che riguardano la neuropsichiatria e qualche volta anche l'ostetricia. Quindi sarebbe bello che cominciassimo a ragionare tutti in termini non tanto di numero di posti letto che forse non servono neanche più, nel senso che la natalità cala, ma proprio in termini di servizi e di un dipartimento che ragiona tutto insieme. Questo praticamente fa sì che noi H24 assistiamo tutte le pazienti che hanno necessità di un servizio di ostetricia e di ginecologia del territorio e a seconda di quelle che sono le caratteristiche praticamente vengono assistite o direttamente qua a Fano o vengono trasferite a Pesaro. La pediatria è presente H24 per cui anche quelle che le pazienti che partoriscono qui a Fano hanno un'assistenza neonatologica e per cui il pediatra è presente, quindi anche la popolazione non deve praticamente ascoltare delle false notizie che arrivano, non so da chi, adesso siamo in campagna elettorale, in campagna elettorale praticamente noi non vogliamo essere oggetto di strumentalizzazione da parte, noi dobbiamo creare un servizio e come tale dobbiamo essere al di sopra di tutti e delle parti. Oltre rumore per nulla perché in realtà non cambia assolutamente niente, non c'è nessuna volontà di smantellare il servizio di pediatria a Fano, anzi c'è un continuo gestire le poche risorse che ci sono perché a livello nazionale sappiamo che la situazione sia medica che infermieristica e soprattutto specialistica pediatrica drammatica, nonostante questo vorrei che fosse apprezzato lo sforzo di questa direzione per mantenere aperto questo servizio.